Il progetto preliminare proprio per poter darvi spunti al comune per quello che serve All'aspetto a tutto ciò che vedete, è il fatto con low cost Con donazioni di persone che ha ritrovato via, no? Porta qua Questo che vedete qui è il pallet con cui è arrivata il serramento Che ho ritenuto qua? E che la scultura, l'oggetto, prevederà la demolizione e la vendita Questa è la palestra all'aperto della Roianese Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti.